musica ah ho la manina fatata non dico niente ahahah perchè? BIG ONE! perchè si è pombatto la testa bassa non c'è acqua non può scrivere che andare giù ma guarda di attraverso è gigantesco merda pensa a quello che ho slamato com'era hai visto come sono figli di puttana i movimenti che fanno e andare in combattimento normale fai a destra destra sinistra vieni 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 è quello che buttato la testa vieni che succo big big one è il jet 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 vieni 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 audio vediamo lui dice vieni ciao Cucucu! Cucucu! Oh! Big monster! 100 kg! Fish! Big monster! Ow! Perfect! Oh! 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 Guarda quell'amato bene! No! Mamma mia! Fatti vada a lamarsi così anche quell'altra vieni vicino vicino così e adesso lo tiriamo dentro il bambino bravo il bambino che viene dentro sì il bambino che viene dentro sì 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 non finisce più sì 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 ok aspetta aspetta che lo buttiamo dentro tutto perché è il nome della barca questo sì che è un bel putello un bel putello yeah hard fight ma really big one really big one yeah two big one two fish 100 kilo each yeah winter fishing today yeah I like winter fishing only big fish riverpool italy you are yeah big piano molti piano sei un po' più lontano adesso è così perfetto perfetto sì yeah yeah ok we go release the fish mission massage for reactivare the fish ok bye bye see you next time yeah yeah and one another one another one really big one it's a really big one really big one really monster catfish really monster catfish this is a really monster catfish okay go baby go swimming go this direction please deep water whoa ades if it's strange here this is what? this is the combat let's go partito ciao ciao so No, no, no! Yeah! 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 My river! Big fish in my river! Occhio! Vai vai vai! È acceso? È acceso? Sto filmando! Dai dai! Ovvio che sei l'equo! È stata una gioia emendora! Dai! E' una vera di questa bestia che passa dalla fattiglia che c'è fra i due giri. Grazie per la visione.